preso, bello grosso anche, ottimo ciao a tutti oggi sono qui con gopippo e insieme con queste gabbiette che abbiamo costruito ieri sera proveremo a prendere il granchio blu vi aggiorniamo man mano che la mattinata prosegue forse, no, non credo si va il secchio no, aspetta, si sta sganciando proprio presto, no ok, guarda è preso? non fammi di vero l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso ok, mo preso? quello grosso anche ottimo si è staccato cosa le pensi? bello vai vai no, no, no no, maledetta ma che, l'hai preso? si, 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 si si, ma lui si tenta ancora di prendere tana due siamo riusciti a prenderli, altri ci sono scappati si, si, si sbattendo negli angoli perché alla fine i cappi, come facciamo notare gopippo erano un po' piccolini perché sti granchi sono belli grossi spessi, quindi il cappio deve essere grande eh, fate dei cappi più grandi e se avete altri consigli scrivetelo sotto nei commenti bene, come al solito io vi saluto vi incoraggio a iscrivervi al canale lascio un mi piace guardare gli altri video e mi raccomando date i vostri consigli sempre sotto nei commenti ciao 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 ciao